La Laurea Magistrale in Architettura per la Sostenibilità è il corso di laurea che ti permette di immaginare e progettare le città e gli edifici del futuro. Un'esperienza formativa in grado di rispondere a sfide contemporanee, a partire da quelle climatiche e sociali. Il corso consente di studiare e conoscere, principalmente attraverso l'attività di progettazione, le tre dimensioni della sostenibilità, quella ambientale, quella sociale e ovviamente la dimensione della valutazione economica e dell'innovazione. Queste tre dimensioni trovano corrispondenza nei semestri che caratterizzano il corso e nei seminari introduttivi che affrontano delle vere e proprie sfide per il futuro dell'architettura. I numerosi atelier di progetto interdisciplinari, insieme ai corsi, offrono la possibilità agli studenti di approfondire temi diversi e di acquisire competenze uniche con cui progettare edifici ecocompatibili e spazi urbani resilienti, lavorare in ecosistemi fragili, restaurare e trasformare manufatti esistenti, senza dimenticare l'inclusione sociale. Architettura per la Sostenibilità propone anche un percorso di formazione che prevede l'utilizzo di strumenti innovativi per il rilievo e la modellazione dell'ambiente costruito. I futuri progettisti hanno inoltre la possibilità, attraverso i corsi elettivi, di approfondire metodi e strumenti di modellazione dello spazio urbano e di condurre attività sperimentali nel settore dell'economia circolare, senza dimenticare i workshop che cambiano ogni anno. Il Politecnico di Torino offre poi agli studenti l'opportunità di prendere parte a team studenteschi e tirocini pre e post laurea in più di 30 istituzioni per mettersi alla prova nel mondo professionale. Alla fine di ogni semestre il corso di laurea organizza giornate dedicate alla Final Review, un'occasione per gli studenti di presentare i progetti sviluppati nell'ambito degli atelier e degli insegnamenti. Le Final Review non sono solo destinate alla Scuola di Architettura, prevedono la partecipazione di molteplici rappresentanti delle istituzioni pubbliche e degli enti privati. L'emergenza sanitaria che tutto il mondo ha affrontato ha posto molti interrogativi alla nostra comunità universitaria. Da questa esperienza sono nati nuovi modi di interazione tra studenti e docenti e di condivisione dei risultati dei corsi. La piattaforma Telearchitettura racconta una parte di questi modi e offre una panoramica dei lavori degli studenti dell'ultimo anno accademico. La Comunità di Architettura per la Sostenibilità è composta da più di 400 studenti provenienti da tutto il mondo. Per questo è possibile svolgere tutto il percorso formativo sia in italiano sia in inglese. Il programma Erasmus Plus è attivo con oltre 50 istituzioni in 20 paesi, mentre progetti speciali e di doppia laurea coinvolgono 7 continenti e nazioni al di fuori dell'Unione Europea, tra cui l'America Latina, la Cina e l'Australia. Architettura per la Sostenibilità. Costruisci oggi il futuro. Il tuo futuro è il futuro di tutti. Grazie. 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 Grazie.